Una paralisi alla gamba che si sarebbe potuta evitare se fosse stata soccorsa in tempo. Una postina francese con contratto a termine colpita da Ictus al lavoro ha sporto denuncia per mancata assistenza lo scorso 19 febbraio. Dopo essersi lamentata più volte di dolori anormali, la direzione le avrebbe ingiunto di continuare a lavorare. I soccorsi sono stati chiamati dopo diverse ore grazie all'insistenza di un collega.